Buonasera a tutti e bentrovati con l'appuntamento con l'informazione in diretta di Udinese TV nella nostra ultima edizione di giornata. Questa sera apriamo con gli esteri, con l'annessione a Mosca delle quattro regioni ucraine nelle quali si sono svolti i referendum che le cancellerie occidentali hanno definito delle farse. Le persone che vivono nel Lugansk, nel Donetsk, a Kherson, a Zaporizia diventano nostri cittadini per sempre, ha affermato Putin aprendo la cerimonia di firma dei trattati nella sala di San Giorgio al Cremlino. L'Ucraina deve cessare il fuoco cominciato nel 2014. Siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati, ma la scelta dell'annessione della popolazione delle quattro regioni ucraine non è più in discussione. Difenderemo la nostra terra con tutti i mezzi a nostra disposizione. L'Unione Sovietica è passata e non tornerà, ma i russi che vivono al di fuori dei confini della Russia possono tornare alla loro patria storica. Sentiamo allora un passaggio del discorso del presidente Vladimir Putin. L'Unione Sovietica è stato un certo numero di regioni. da un lato ci sono i filorussi del Donbass che stanno festeggiando l'annessione, infatti vediamo le immagini delle tv del Ministero della Difesa russo di quanto sta accadendo in questi istanti nel Donbass. Dall'altro però un programma che stride con le scene delle migliaia di russi in fuga dal paese per sottrarsi alla possibile chiamata alle armi. I paesi baltici e la Polonia hanno già chiuso da settimana le loro frontiere ai russi e a loro si è unita ora la Finlandia ed è pronta la Norvegia. Ma l'esodo continua attraverso le frontiere meridionali, specie con la Georgia e il Kazakistan e più a est con la Mongolia. Le prime unità dei riservisti richiamati, ha fatto sapere il Ministero della Difesa, si sono già costituite e saranno impiegate per controllare i territori liberati in Ucraina. Nel frattempo questa mattina dei missili russi hanno colpito un convoglio umanitario in uscita da Zaporizia uccidendo 25 persone e ferendone altre 62, tutti civili. Non ha tardato ad arrivare la risposta del Presidente ucraino Zelensky che non intende aprire i negoziati con Mosca, perlomeno fino a quando Putin sarà Presidente. Sentiamo. «Мi довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному і ми захищаємо один одного. Це і є Альянс. De facto. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим Президентом Росії». E dopo le perdite di metano delle due condotte del Nord Stream, gravemente danneggiate dalle esplosioni registrate dai sismologi lunedì scorso nel Mar Baltico, una gigantesca nube di gas sta sorvolando l'Europa. Un sabotaggio la cui notura è oggetto di indagini internazionali e reiterati scambi di accuse tra Occidente e Russia. Secondo una simulazione dell'Istituto di ricerca norvegese Nilu, le quattro falle che si sono aperte nei gasdotti a circa 80 metri di profondità nelle zone economiche esclusive di Svezia e Danimarca hanno sprigionato finora 80.000 tonnellate di metano, prima in mare facendo ribollire la superficie dell'acqua e quindi nell'atmosfera, creando una gigantesca nube che, tra le altre cose, dividendosi in due tronconi, è arrivata a toccare anche l'Italia. Senza rischi però di inquinamento né per la salute dei cittadini né per l'inquinamento dell'atmosfera, si curano gli esperti. E questo non può che far allarmare ulteriormente dopo una settimana di rialzi per le perdite dei gasdotti. Quest'oggi si è tenuto il Consiglio straordinario dell'energia a Bruxelles, ma il tema del price cap al gas, secondo quanto riferito dal Ministro dell'Industria della Repubblica cieca, non sarebbe stato sul tavolo del Consiglio. Più che price cap, lo strumento su cui si lavora a livello europeo per la crisi del gas, è un tetto con forchetta. Detto anche il Ministro della Transizione, Roberto Cingolani, bisogna realizzare e trovare un range tra un minimo e un massimo in cui ci possa essere sempre una variazione, ci sarà presto una proposta. E della necessità di un tetto europeo al gas o comunque di un provvedimento unitario per far fronte a questi rincari drammatici relativi ai costi dell'energia, ha parlato anche il Governatore Fedriga, sottolineando come i grandi eventi della Regione in questo momento storico siano fondamentali e soprattutto bisogna dare un'accelerata in questo senso, anziché fermarsi. Sentiamo. Il risvolto degli grandi eventi della Regione, degli eventi turistici e anche un incoraggiamento per il futuro a fronte di un momento complicato per le bollette, per i rincari. Sì, Barcolana si inserisce all'interno dei grandi eventi della Regione insieme a Friuli Doc, Gusto di Frontiera, Pordenone Legge, che sono gli eventi che storicamente con il loro grande richiamo riescono a destagionalizzare e quindi dare un forte aiuto a tutto il comparto turistico. I numeri quest'anno li ospichiamo molto elevati dopo anni di pandemia in cui per tutti questi eventi non sono mai fermati, quindi questo è un fatto molto positivo. dall'altro anche per rafforzare il sistema in vista comunque di un problema serio che stiamo già vivendo purtroppo che è rincaro energetico e l'aumento dell'inflazione. Mi auguro che a livello nazionale e soprattutto europeo vengono prese le misure necessarie e non invece questa ritrosia a una risposta comune a livello europeo. Dall'altro lato però è ovvio che se i singoli comparti e il sistema economico riesce a rafforzarsi può affrontare in modo più strutturale queste difficoltà che ho paura si presenteranno in modo drammatico in alcuni casi. Lei ha detto comunque cerchiamo di guardare con fiducia il futuro. Bisogna guardare con fiducia per questo scusate stiamo continuando ad investire per non fermarsi perché in questo momento magari tanti penserebbero che la cosa migliore sia quella di aspettare tempi migliori. In realtà nei momenti difficili dove bisogna correre perché magari dopo si può rallentare ma il traguardo si arriva. Se uno si ferma rischia di non arrivare ma il traguardo è quindi di drammatizzare una situazione ancora difficile. E allora andiamo a vedere nello specifico quali sono le novità a favore delle imprese decise quest'oggi dall'esecutivo regionale con l'intervista all'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini. Assessore Bini a fronte dell'impennata dei costi energetici la regione ha assunto una serie di iniziative e oggi in giunta un'iniziativa che consentirà di agevolare la produzione di energia elettrica. L'ennesima importante iniziativa che la giunta Fedriga sta mettendo in campo in queste settimane. Oggi abbiamo approvato una delibera importante che consentirà al FRI e al fronte di rotazione della regione di sostenere gli imprenditori che volessero fare degli investimenti importanti per quanto riguarda le energie rinnovabili. Quindi non solo sostegni con fondi a perdere, quindi a fondo perduto, ma anche per investimenti. Quindi questa è un'ulteriore misura, ce ne saranno brevissimo altre, anche con assestamento bis. Quindi insomma dimostrazione concreta di cosa significa essere a fianco alle imprese e agli imprenditori. Ed ora gli aggiornamenti sul maltempo che si sta abbattendo nella nostra regione e in particolare nel territorio udinese. Quello di oggi è stato un pomeriggio di intenso lavoro per i volontari della protezione civile e delle squadre comunali. Oltre all'emergenza che si è registrata a prepotto, le precipitazioni hanno creato dei disagi nei territori dei comuni di Cividale del Friuli, Bicinico, San Giovanni Annatisone, Manzano e Trivignano Udinese. Sono operative con il coordinamento della sala operativa regionale di protezione civile tutte le squadre dei singoli municipi insieme ai distretti Vannatisone, Valtorre e Manzanese per un totale di 51 volontari con 22 mezzi. A Manzano interventi al sottopasso che collega la strada regionale 56 con via Sottomonte a Manzano, strada interrotta in via Orsari all'altezza Civico 17 con il crollo di alberi sulla sede stradale. Si è verificato poi l'allagamento totale della regionale di Mortegliano dalla rotonda della Manganizza al cimitero di Manzinello. Le operazioni di messa in sicurezza e monitoraggio del territorio continueranno durante tutta la notte in piena sinergia con i Vigili del Fuoco a tutela della comunità e permane l'allerta meteo fino alle 24 di quest'oggi. Ed ora tutti gli aggiornamenti di cronaca con le principali notizie di giornata nelle nostre Flash News a cura di Francesco Colussi. Nella serata di giovedì tragedia sulla strada che scende dalla marga di Feistriz in Carinzia a pochi metri dal confine con il Friuli. A perdere la vita Natascha Errat, 51enne di Ugovizza, frazione del comune di Malborghetto Valbruna, che secondo i primi accertamenti mentre era a bordo della propria auto ha sbandato ed è precipitata per 500 metri lungo una scarpata. Inutili soccorsi chiamati da alcune persone che avevano visto l'auto uscire di strada. Complesse le operazioni di recupero anche a causa del maltempo. La donna, sposata e madre di tre figli, gestiva un agriturismo in quota oltre a un bed and breakfast a Malborghetto. Una donna di circa 50 anni è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi dall'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Chiusaforte e dall'equipaggio dell'elicottero sanitario dopo essere caduta dalla bicicletta sulla quale stava pedalando durante una manifestazione sportiva. Il fatto è accaduto lungo la ciclovia Alpe Adria nel territorio del comune di Chiusaforte. La donna è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni per un trauma riportato alla parte alta del corpo. Nella tarda mattinata di oggi all'interno della scuola superiore Carducci di Trieste è stato diffuso dello spray urticante presumibilmente al peperoncino creando problemi di respirazione ad una ventina di persone. Sul posto intorno alle 13 è intervenuto alla Sores che ha inviato tempestivamente due ambulanze e un'automedica per gestire l'emergenza in particolar modo le eventuali allergie. Tutte le persone coinvolte a livello sanitario dall'episodio sono state trattate sul posto dei professionisti dell'equip e per nessuna di loro è stato necessario il trasporto in ospedale. Due cittadini bulgari sono stati arrestati in flagranza di reato a Gorizia nei pressi dell'ex valico confinario di Sant'Andrea per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I due sono stati fermati dal personale del settore polizia di frontiera di Gorizia coadiuvato dalla guardia di finanza a bordo di un furgoncino con targa polacca con sette cittadini iracheni tre dei quali di minore età privi di qualsiasi documento. Dopo la convalida dell'arresto i due passeur sono stati scarcerati e sottoposti alla misura dell'allontanamento dal territorio del Friuli Venezia Giulia per un periodo di cinque anni. I migranti irregolari hanno tutti manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale. E si è verificata poco dopo le 16 di quest'oggi un'aggressione al titolare del supermercato PAM in via Battisti da parte di una decina di adolescenti. Prima hanno rubato nascondendole nei pantaloni delle bottiglie di alcolici e poi hanno deciso di andarsene a bere nella vicina Galleria Astra. Il titolare del supermercato, il 56enne Andrea Masten, esasperato dall'ennesima sottrazione subita, ha voluto chiedere loro conto del mal tolto e per risposta è stato colpito al volto con una bottigliata rimediando un escoriazionalmento. Protagonista della vicenda un gruppo, come detto una decina di ragazzi, tutti adolescenti, che successivamente per vincere la noia si sono pure picchiati tra di loro, dandose la gambe prima dell'arrivo delle pattuglie della polizia, allertate dallo stesso Masten. Ormai da mesi la zona è un luogo senza più regole e nessuna tutela per chi la frequenta, per lavoro, per i passanti e per i clienti dei pochi esercizi commerciali che resistono. In pieno centro città c'è una situazione di degrado nei confronti della quale, nonostante i numerosi solleciti di chi la vive quotidianamente, non è stato fatto nulla e come se non bastasse in questi giorni la zona è stata anche colpita da degli allagamenti nella foto. Infatti vediamo la situazione della galleria e dell'allagamento che ha invaso il caffè Pinocchio. Andiamo avanti ora, ritorna il Graduation Day che celebra tutti coloro che hanno conseguito il titolo accademico nell'anno passato, nell'ultimo anno all'Università di Udine. Saranno oltre 800 gli studenti, domenica 2 ottobre a partire dalle 10.30 a festeggiare il titolo, il traguardo conseguito nella splendida cornice della Dacia Arena. Domenica 2 ottobre a partire dalle 10.30 per il secondo anno consecutivo alla Dacia Arena ritorna il Graduation Day dell'Università di Udine, l'evento che celebra i laureati dell'ultimo anno dell'Ateneo Friulano. La cerimonia, che dopo il successo dello scorso anno si svolgerà nuovamente nella Casa dell'Udinese, festeggia la chiusura del percorso di studi e il conseguimento del titolo dei laureati tra settembre 2021 e luglio 2022 e i migliori laureati con il sistema premiale d'Ateneo. È prevista la partecipazione di oltre 800 laureati accompagnati da familiari e amici e dei 70 migliori laureati dell'Università. Il Rettore Roberto Pinton premierà tutti gli studenti, accompagnato dai delegati e dai direttori e da una rappresentanza di docenti di ogni dipartimento. Sarà un momento di gioia, soddisfazione e orgoglio per i nostri laureati, ai quali va il nostro applauso e augurio per una brillante prosecuzione del proprio percorso di vita e per tutta la comunità universitaria, sottolinea il Rettore. Un sentimento comune che unirà simbolicamente gli studenti, i docenti e il personale dell'Ateneo, per questa occasione speciale fuori dalle mura accademiche al nostro territorio. Ai bordi del campo di gioco sfileranno così tutti i laureati dei vari corsi e Udinese TV e Udinese Calcio trasmetteranno l'evento in diretta sulle rispettive pagine Facebook. Come ogni venerdì, anche quest'oggi, il monitoraggio settimanale sulla situazione pandemica da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. Questa settimana c'è stato un sensibile aumento dell'incidenza e anche dell'indice R-T. Sentiamo allora il commento di Giovanni Rezza. Anche questa settimana si nota un aumento del tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese e l'incidenza si fissa intorno a 325 casi per 100.000 abitanti. Quindi si è verificato un sensibile aumento rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda l'RT, anche notiamo una tendenza all'aumento e siamo ormai al limite della soglia epidemica, ovvero a 1. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 6% e all'1,4%. Quindi c'è una tendenza all'aumento dell'occupazione dei posti di area medica mentre siamo lontani da qualsiasi soglia di congestione per quanto riguarda la terapia intensiva che rimane in termini di occupazione stabile. Vediamo allora i dati nel dettaglio. Quest'oggi in Italia sono 34.479 nuovi contagi da Covid-19 con un tasso di positività che si attesta al 18,8%. Le vittime sono 38, 136 pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite, 5 in meno di ieri. Mentre gli ingressi giornalieri sono 16, ricoverati nei reparti ordinari sono 4.101, 252 in più. In Friuli, Venezia Giulia, invece i nuovi casi sono 1075, un decesso a Udine. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 151. Le sei città che formano tre aree urbane e trasfrontaliere in Europa si sono incontrate quest'oggi tra Gorizia e Nuova Gorizia per parlare delle problematiche che le accomunano. In particolare si è sottolineata la necessità che l'Europa riparta da sindaci e cittadini e nell'occasione si è anche sottolineato come la sinergia tra Gorizia e Nuova Gorizia che le ha portate ad essere capitale europea della cultura 2025 sia un vero e proprio faro. Tre giorni di lavori, un forum importante da cui i sindaci delle città di confine hanno ricavato un documento comune, l'intenzione di rivedersi annualmente e Gorizia e Nuova Gorizia sono state definite un faro per l'Europa. Non solo un faro ma anche una capitale delle capitali e del progetto al quale stiamo lavorando. Cioè oggi tutti parlano di ecosistema, di ecosostenibilità e io mi sono inventato lo slogan per il futuro ECOC sistema, l'acronimo di capitali europei della cultura. Ecco vorremmo che tutte le capitali europee della cultura si ritrovassero periodicamente per progettare assieme almeno una parte del futuro d'Europa. Questo per aiutarci a risolvere quantomeno i quotidiani problemi di tutte le aree di confine. Qual è il punto di forza, secondo lei, dell'alleanza tra Gorizia e Nuova Gorizia? La gente ha capito che il futuro passa attraverso le piccole cose non i grandi progetti molte volte impossibili e oggi purtroppo viviamo un momento anche difficile in cui diventa impossibile anche il facile molte volte ma attraverso la quotidianità i problemi spiccioli di ogni giorno non è possibile che due comunità che vivono vicine non riescano a collaborare e a risolvere questa è la mission che ci diamo per i prossimi mesi non anni, mesi 225 anni dalla firma del trattato di Campoformio e questa sera nella sala del Parlamento del Castello di Udine si è tenuta all'inaugurazione di una mostra dedicata proprio a Napoleone nel Friuli Venezia Giulia ne abbiamo parlato con il curatore Paolo Foramitti Cosa offrirà al pubblico la mostra che sarà visitabile fino al 29 novembre? Qual è il percorso espositivo? Dunque in primo luogo la mostra offrirà al pubblico come pezzo interessante e particolare il letto di Napoleone dove Napoleone Bonaparte nel 1797 dormì realmente con sua moglie Giusefin durante il suo lungo soggiorno a Villa Manin di Passariano Villa Manin di Passariano dove fu firmato il trattato di Campoformio pur mantenendo il nome del paese friulano e una serie di stampe e disegni d'epoca molto spesso inediti e mai visti in Italia in alcuni casi che raffigurano proprio i venti successi in Friuli e a Udine nel 1797 quindi una mostra tematica caratterizzata proprio in cui in Bonaparte aveva solo 27 anni quindi dalla presenza friulana del giovane futuro imperatore francese quindi molto materiale inedito e anche mai esposto al pubblico? mai esposto al pubblico perché solo conosciuto dagli esperti e quindi questa è l'occasione per divulgarlo e per mostrarlo al pubblico spero più ampio possibile due prestigiose tele del pittore di origine istriana Cesare Dell'Acqua sono state recuperate grazie a un'operazione congiunta di sovrintendenza Erpac e Regione sono state collocate nella sala multimediale del palazzo regionale a Trieste un'importante operazione che va ad arricchire il patrimonio artistico del Friuli Venezia Giulia due opere di grande pregio ornano la sala multimediale del palazzo della regione grazie a un'operazione condotta da Erpac un'operazione importante che è stata già inaugurata anche ad esempio a Gorizia per la mostra sulle ursoline sì Erpac è il soggetto cui Regione Friuli Venezia Giulia ha affidato il compito di ottemperare una legge che include gli enti locali e territoriali nelle misure di tutela del patrimonio artistico intese non solo come preservazione e conservazione ma anche come trattenimento in Italia delle opere dei nostri autori in questo caso si muovono le sovrintendenze sono loro deputate a sorvegliare che le opere dei nostri artisti non vadano oltre confine la sovrintendenza della Lombardia ha verificato che c'era la possibilità che i dell'acqua fossero venduti all'estero ha tempestivamente informato la sovrintendenza del Friuli Venezia Giulia e Regione Friuli Venezia Giulia ha affidato ad Erpac il compito di verificare il valore e eseguire tutte le procedure per poter acquisire le due opere che abbiamo esposto qui in sala multimediale sono due tele prestigiose sono due tele importanti sono due tele importanti nella produzione di Cesare dell'acqua perché documentano un periodo che lui ha diciamo usato poco ecco uno stile che ha usato poco questi sono quadri di genere tre ornamentali che erano a decorazione di un palazzo ecco e tornano a fare la decorazione di un palazzo quindi è giusto così al via quest'oggi la 54esima edizione della Barcolana il motto sarà Enjoy come ha spiegato il presidente Mitia Jaluz perché dopo due anni molto impegnativi la Barcolana torna a diventare una festa oggi la presentazione nel Salone degli Incanti quali saranno le novità di questa edizione anche se sappiamo che la formula è quella collaudata formula collaudata ma tante novità in mare e a terra in mare iniziamo martedì prossimo con il martedì 4 ottobre con la Barcolana Maxi per la prima volta più di 12 barche veramente grandi con più di 24 metri si sfideranno per la prima edizione della Barcolana Maxi poi il foiling in sinergia con Monfalcone si realizzeranno una serie di regate dedicate alla vela più spettacolare quella più energy e poi una Barcolana con nuovi protagonisti barche che arrivano dagli Stati Uniti dall'estero molto agguerrite con la Barcolana più contendibile degli ultimi anni e a terra il Sea Summit che è un grandissimo evento al quale teniamo molto perché punta a sensibilizzare sui temi della sostenibilità soprattutto del mare e quest'anno abbiamo deciso di raccontare il golfo, il mare Adriatico attraverso gli occhi dei più giovani degli under 23 che è della generazione Z di quella che abbiamo chiamato generazione dei nativi ambientalisti che ci chiedono di occuparci davvero non troppe parole ma fatti del mare e della sostenibilità ambientale Dopo due anni complicati si torna anche a terra alle manifestazioni di sempre Questa è una bellissima novità forse la più bella perché ci siamo lasciati alle spalle la pandemia e abbiamo la possibilità di vivere con gioia naturalmente in modo responsabile ma con una gioia ritrovata la Barcolana ci saranno gli ingredienti consueti musica, feste il villaggio si riappropria delle rive di Trieste quindi sarà una festa importante per tutta la regione quindi ci aspettiamo che ci siano davvero anche tanti amici della Barcolana che arrivano dal Friuli per partecipare in mare abbiamo tantissimi iscritti che arrivano da Lignano e dai porti del Basso Friuli ma anche tanti a terra che vogliono godersi la Barcolana la domenica grazie ai treni speciali messi a disposizione dalla regione da Trenitalia ma anche nei giorni precedenti E adesso proiettiamoci come sempre sulla giornata di domani per dare un'occhiata ai titoli delle prime pagine che troveremo in edicola iniziamo subito con la prima pagina del gazzettino che intitola Atomica Putin sfida la Nato lo ZAR firma le annessioni delle quattro regioni ucraine e minaccia gli USA usarono la bomba è un precedente Avanti la prima pagina di Libero si sofferma sul caso Rula che è infamata cara Rula ma sei scema? La Gebrà l'attacca Georgia per i guai del padre anche se lui l'abbandonò quando aveva un anno criticata sui social grida pure allo squadrismo lo stesso lo stesso con la prima pagina della verità ora tutti si accorgono che il re di Bruxelles è nudo aiuti dall'Unione Europea ha finita la farsa se non vanno bene alla Germania le regole sono carta straccia ai tedeschi con i soldi accumulati violando il surplus commerciale inondano di liquidità le loro aziende che faranno concorrenza sleale alle nostre mentre Olanda e Norvegia si arricchiscono col gas anche la verità parla dell'attacco alla Meloni da parte di Rula avanti ancora con la prossima prima pagina la pagina del giornale il veto sul gas blocca l'Unione Europea la Germania come Orban dal socialista Schulz schiaffo ai 14 paesi che chiedono il tetto del prezzo del metano crosetto scorrettezza ed egoismo nessun sovranista si era mai comportato così recessione in vista le bollette si mangiano il tesoretto italiano e ancora il titolo del foglio il foglio che scrive Zelensky risponde alle illegalità di Putin bussando la porta della Nato il presidente russo celebra le annessioni convocando i suoi uomini a palazzo il presidente ucraino chiede l'adesione accelerata all'alleanza e dice negozio con Mosca solo se avrà un altro leader ed è tutto anche per questa sera finisce così l'informazione in diretta di Udinese TV io vi ringrazio per averci seguito e a tutti voi auguro una buona notte grazie a tutti